Musica Benvenuti al palazzetto dello sport di Alba, 1100 metri quadrati che oggi sono stati dedicati e hanno ospitato Agora Connect Cuneo. Musica Noi volevamo proprio ricreare il cuore pulsante di quello che era la Gorà nell'antichità, il cuore pulsante dell'economia e della parte politica di qualunque comunità. Musica Devo dire che ha proprio avuto un grande successo perché avevamo 100 desk come massima capienza della sala e li abbiamo riempiti tutti. Musica L'elemento oggi è spositivo in cui c'è un rapporto anche se siamo nell'era digitale tra le persone, approfondimenti tecnici e poi un altro che è l'altro elemento digitale con un B2B che sarà sempre aperto in cui si possono creare dei momenti di incontro, pianificare delle date, pianificare delle sessioni più approfondite. Musica La volontà è proprio qui. Di avere una business community attiva e diversificata nei vari settori, nella grande famiglia di Confindustria. Abbiamo grandi imprese, piccole imprese, start up innovative, quindi anche sotto questo punto di vista un grande successo. Musica Per noi è molto importante che l'associazione sia considerata un posto in cui fare business, in cui stringere legami, scambiare opportunità. E' un valore aggiunto per le associazioni che in questo caso non sono soltanto più degli organismi di difesa delle aziende, ma sono anche degli organismi di promozione, di opportunità. E quindi stiamo già progettando l'edizione 2020. Musica 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 Musica